Il palazzo di giustizia di Gela si tinge sempre più di rosa. Oggi infatti si sono insediati otto nuovi magistrati, sette donne e un uomo. Prendono servizio al tribunale Flavia Strazzanti, Mari Camarino, Tiziana Landoni, Elena Childani, Valeria Vincenti e Virginio Dante Bernardi. In procura invece si sono insediati Eugenia Belmonte ed Elena Silvia Anna Schiavetta. La cerimonia che si svolta nell'aula magna del presidio giudiziario è stata preseduta dal presidente del tribunale Paolo Andrea Fiore e dal procuratore della Repubblica Lucia Lotti. Sono tutti giovani, mi sembrano bravi, motivati, cercheremo di darci da fare. Noi soffriamo un po' della carenza di magistrati che c'è stata negli ultimi mesi, quindi abbiamo un po' di processi che si sono accumulati, dobbiamo smaltire, secondo i piani ministeriali più recenti, tutto il nostro arretrato più anziano e ne abbiamo anche noi. Gli uffici giudiziari gelesi, come ormai si sa, sono caratterizzati da questo turnover. arrivano sempre giovani, altri se ne vanno e niente, ci auspichiamo che l'attività possa continuare con gli standard che abbiamo cercato di realizzare in questi anni. L'augurio per i giovani magistrati che arrivano è quello di realizzare al meglio l'impatto con l'attività lavorativa, certamente questo a Gela è possibile, c'è un tessuto, c'è un'organizzazione che consente di operare bene, almeno cerchiamo e quindi sarà per loro una bella palestra. Dopo che sono andati via a luglio sette magistrati, chiaramente aspettavamo questa data con tanta ansia perché è vero che si è andata avanti con tanti sacrifici, anche con la presidenza del tribunale che ha fatto sì che venissero a Gela due applicati e qui addirittura forse tre se non ricordo male, per cui si è andata avanti. Oggi per noi è un giorno importante perché finalmente si viene a ricreare quel pool di magistrati che possa portare avanti le giuste esigenze di giustizia che i cittadini aspettano. Agricoltura e turismo, prospettive di sviluppo del comprensorio è il tema dell'incontro promosso dal Partito Democratico di Gela che si è svolto oggi al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Presente è anche l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo. Quali le nuove strategie per il rilancio del turismo in tutto il territorio, con particolare riferimento a questo territorio? Occorre innanzitutto riprendere i nuovi distretti turistici, in questo momento abbiamo 27, occorre arrivare a 7, 8, non più di questo numero e Gela va inserito all'interno di questo itinerario UNESCO nel rapporto da un lato con la Valle dei Templi e dall'altro lato con le città Tardobarocchie, quindi Noto, Ragusa, Scicli, quindi all'interno di questo percorso. Vanno poi valorizzati tutti gli altri percorsi turistici della regione siciliana dove Gela può trovare senz'altro allocazioni come i sentieri naturalistici, le vie franchigene e anche il rapporto con i comuni dei borghi più belli d'Italia che sono all'interno della provincia di Caltanissetta, su terra, su tutti. A fare gli onori di casa il deputato Giuseppe Arancio, il presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia ed il capogruppo consigliere Enzo Cirignotta. In un momento storico delicatissimo anche per questa città in cui l'industria ha dato qualche segnale di cedimento e non riesce più a rispondere alle esigenze occupazionali del territorio, l'agricoltura e il turismo possono rappresentare ancora una valida alternativa? Abbiamo un'opportunità grandissima che tra dicembre e gennaio dovrebbero iniziare le misure della programmazione europea, questo territorio è stato nel passato poco informato, abbiamo la necessità di fornire intanto informazione, attraverso l'informazione poi partecipare e cercare di vincere più bandi possibili. In un momento storico come quello di oggi in cui c'è la dismissione del polo chimico industriale, ecco che sicuramente e in maniera anche urgente si deve intervenire anche a livello regionale, quindi grazie a questi strumenti finanziari si deve intervenire per puntare sullo sviluppo delle culture già esistenti come anche la sperimentazione per esempio dell'olivo e anche sperimentare nuove culture che sono biologiche e che come per esempio anche le culture fuori suolo che non necessitano di acqua e che non inquinano il sottosuolo. Nel prossimo anno ci saranno delle opportunità importanti per le nostre aziende, partiranno i primi bandi per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale 2014-2020 e quindi dico alle aziende che sono già insediate di utilizzare queste risorse finanziarie per migliorare le proprie infrastrutture, le proprie aziende per renderle anche compatibili con l'ambiente visto anche i SIC ZPS che esistono sul nostro territorio e ai giovani dico sfruttate queste risorse finanziarie per inseriarvi, creare un posto di lavoro, creare un'azienda, un'azienda nuova e quindi dare la possibilità di sviluppo al nostro territorio e all'agricoltura. All'iniziativa di oggi molto partecipata sono intervenuti forze sociali, sindacali ed ordini professionali. Il reparto territoriale dei Carabinieri di Gela si arricchisce di due nuovi ufficiali, si tratta del tenente Michele Cerri, 27 anni, nativo di Livorno e del tenente Matteo Calcagnile, 25 anni, di Roma. Il primo comanderà la sezione radiomobile prendendo il posto dal tenente Francesco Ferrante, promosso al comando del nucleo operativo e radiomobile. Calcagnile dirigerà la sezione operativa. Cerri è stato impegnato negli ultimi anni in diverse manifestazioni dall'Expo alla Val di Susa. Calcagnile invece ha prestato lo suo impegno al tredicesimo reggimento Friuli-Venezia-Giuria. Per i due ufficiali si tratta della prima esperienza in un reparto territoriale. La realtà gelese offre sicuramente margini per migliorare come uomo e come ufficiale carabinieri. Arriva da Livorno dove insiste uno stabilimento Eni, altrettanto trova Gela. Questa dell'Eni sicuramente è un banco di prova per noi come reparto perché dobbiamo mantenere con cui si avvicinanza alla popolazione ma allo stesso tempo garantire la sicurezza all'impianto stesso dell'Eni. Quando ha saputo che sarebbe arrivato in città qual è stato il suo primo pensiero? Il mio primo pensiero è stato subito quello di dovermi confrontare con delle attività con cui finora non mi ero mai cimentato praticamente ma solo teoricamente durante il nostro corso di studio e sapevo che avrei da subito dovuto mettere molto impegno per entrare subito nel territorio e in tutte le dinamiche che ci sono a Gela e quindi conoscere subito i personaggi principali quindi quelli su cui puoi poter lavorare. L'esigenza che in questo momento sta imperversando nel territorio riguarda più che altro attività di estorsioni e spazio di sostanze stupefacenti. A fare gli onori di casa questa mattina la presentazione dei due nuovi ufficiali, il Maggiore Valerio Marra. Due nuovi ufficiali giunti fortemente preparati e motivati che sono stati destinati qui a Gela dal nostro Comandante Generale a testimonianza dell'attenzione che il vertice dell'arma riserve in una città così importante come questa. Speriamo che con la loro motivazione e con la loro preparazione frutto di cinque anni di percorso formativo tra la scuola ufficiale i carabinieri e naturalmente il periodo trascorso in Accademia Militare a Modena possano naturalmente dare la giusta preparazione ma soprattutto la giusta guida, il giusto stimolo ai nostri carabinieri impegnati sia nell'attività di controllo del territorio che nell'attività investigativa. Il Tenente Francesco Ferrante, neocomandante del Nucleo Operativo e Radiomobile che ha preso il posto dal Capitano Gianmarco Messina trasferito a Catania. Dopo 20 mesi di comando della sezione radiomobile del reparto territoriale, quindi della liquota dedicata al pronto intervento, ho assunto da qualche giorno il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile, quindi la responsabilità di entrambe le articolazioni del reparto, l'una che si occupa del pronto intervento e l'altra che si occupa più specificamente della Polizia giudiziaria. ...corsisti turisti sul Castelluccio e sui Granai Ducali di Gela. Ad accogliere la numerosa comitiva, l'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Messinese e gli assessori Francesco Salinitro e Fabrizio Morello, la Proloco di Gela e gli studenti delle classi accoglienza dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo, diretto da Grazio Di Bartolo. Il presidente del Lions di Caltanissetta, Fabiola Safonte. È un progetto molto ambizioso che il nostro club sta portando avanti in occasione del ventennale della nostra fondazione. Il club Caltanissetta dei Castelli, quest'anno il direttivo e tutta l'assemblea dei soci, ha deciso di focalizzare l'attenzione sulla valorizzazione del territorio dei castelli, del territorio nisseno. Sono coinvolti 13 castelli, è il castello anche di Pietro Persia, nonostante sia territorialmente e geograficamente altra provincia. Il progetto è sotto legida dell'assessorato ai beni culturali e dell'identità siciliana, in collaborazione con l'Istituto di Rocco, un istituto alberghiero di Castanissetta. La sovrintendenza di Castanissetta è il patrocinio della società dei territorialisti per il contributo e per la parte scientifica. Gli obiettivi del progetto sono diversi, sono molteplici. Verrà realizzata un volume con un percorso turistico dei castelli presentato all'interno di un convegno che avrà dei relatori internazionali. La Gela rientra in un ulteriore itinerario turistico, l'itinerario dei castelli. Sì, è interessante. Mi piace, intanto auguri e complimenti per il lavoro per quanto riguarda la nostra realtà. Sottolino il fatto che la collaborazione con la Proloco sta producendo dei risultati importanti e con la collaborazione dell'Istituto alberghiero, dove i ragazzi veramente sono encomiabili e bravissimi nel svolgere il loro lavoro. Io adesso siamo passati dal museo e ho visto con piacere che ci sono dei pullman che stanno visitando la nostra città e significa che siamo sulla buona strada. Alla fine di ogni escursione mi inviano delle immagini e ho visto che sicuramente abbiamo già un buon numero e con altissima qualità delle immagini prodotte. Con questo progetto abbiamo avuto modo di conoscere tutti i castelli del territorio nisseno e anche la loro storia. È molto importante per noi perché queste occasioni sono rare. Donna e vita è stato il tema al centro dell'incontro che si è svolto al plesso cantina sociale dell'Istituto Comprensivo Gele e Butera nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Unione Donne in Italia. Oggi volevamo essere presente e non disattendere questa giornata particolare che poi oltretutto è una giornata internazionale quindi in tantissime parti del mondo c'è una riflessione da parte delle donne sulle donne più sfortunate rispetto a noi che abbiamo fatto grandi conquiste sociali. Nella scuola abbiamo già iniziato un percorso in questi giorni facendo vedere un film particolare che ho scelto personalmente io che è uscito dieci anni fa e non ha avuto una grande fortuna il cui titolo è Osama. Il film narra la storia di una bambina di un paese medio orientale costretta chiaramente ad andare sposa ad un uomo molto più grande di lei e quindi in realtà ha subito una violenza legalizzata proprio perché l'attenzione quest'anno voleva essere sul fenomeno, sul dramma meglio, delle spose e bambine perché i ragazzini lo vedono più da vicino e sono stesse loro coetanei, noi stiamo parlando di una scuola media che però vivono un dramma particolare e che per fortuna i nostri non vivono. Il presidente dell'Unione Donne in Italia, Giovanna Cassara. Riteniamo che sui ragazzini, sui adolescenti bisogna più che altro intervenire per far capire a loro, se ci riusciamo, che essere violenti contro le donne da parte degli uomini non è una cosa bella perché spesso è il frutto di dinamiche sociali, culturali, anche antropologiche distorte che vogliamo assolutamente disattendere e contrastare. Quindi anche noi insieme alla scuola abbiamo voluto dare questo contributo alla sensibilizzazione portando avanti un processo che già è iniziato alcuni anni fa anche a livello istituzionale e che non bisogna assolutamente trascurare. Una pagina nera della cronaca italiana, una delle tantissime che purtroppo si registrano nel nostro paese, è la storia di Federica, adolescente il cui nome è legato al tragico epilogo della sua vita finita sulle sponde di un lago. Federica, un adolescente che come tutte le sue coetanee si apre alla vita e primi amori e sogni, alle speranze e alle ambizioni che oggi restano soltanto nel ricordo di chi l'ha conosciuta anche soltanto attraverso un servizio giornalistico. Questa storia è diventato un libro presentato oggi al liceo socio psicopedagogico di Gela su iniziativa della FIDAPA. La FIDAPA vuole dare un segnale tangibile della sua presenza e della capacità appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica. È giusto che i ragazzi partecipino a queste conferenze che poi la nostra è stata una conferenza, presentazione di libro, che parla appunto il libro di Massimo Mangiapelo su Federica e Federica la ragazza del lago conosciuta così grazie appunto alla cronaca. Questo momento è particolarmente importante perché ci vede insieme a tantissime altra gente che si sta impegnando su questo fronte, ci vede impegnati e motivati a dimostrare che la nostra presenza ha una sua validità. Noi vogliamo fortemente far sentire questo problema. Non bisogna solamente ascoltare parole vane o dire cose che poi cadono, scadono appunto nella retorica. Vorremmo che ci fosse una coscienza, che i ragazzi prendessero coscienza di questo problema. Quando parlo di ragazzi non parlo solo di donne ma soprattutto di uomini. Ci vuole quello che noi sosteniamo, l'impegno sociale che contraddistingue la nostra casa editrice, che ci vede anche impegnati con coraggio in pubblicazioni di altro genere che non questo di Massimo Mangiapelo che ci è arrivato attraverso un'agenzia letteraria e che poi abbiamo trattato direttamente con l'autore. Abbiamo visto che era un argomento molto importante, un argomento che già in casa editrice noi abbiamo trattato con altri autori e quindi abbiamo voluto contribuire con il nostro impegno e con la nostra professionalità a quello che è il messaggio che bisogna lanciare nella comunicazione per quanto riguarda quello che dovrebbe essere la difesa nei confronti delle donne. Chi non seguirà la linea politica stabilita dal Partito Democratico dovrà assumersene la responsabilità. Serve un segretario cittadino autorevole con il quale si stabilisca un indirizzo unitario. Cerchiamo condivisione. Non usa mezzi termini il gruppo dirigente del primo circolo del Partito Democratico di Gela che chiarisce di non condividere il contegno politico dei consiglieri comunali che rappresentano attualmente il Partito Democratico all'interno dell'assise civica. Noi intanto abbiamo una priorità, la priorità è quella di costruire il Partito Democratico. Il 20 dicembre ci sarà la fase congressuale e noi abbiamo il dovere, così come già abbiamo rappresentato al Presidente provinciale del Partito, di fare uno sforzo, una candidatura unitaria. Oggi il PD non ha bisogno di un segretario di schieramento. oggi c'è una città che deve essere interpretata da una politica, la politica del Partito Democratico, che si appresta alla fase congressuale, che i rappresentanti in Consiglio Comunale con la guida del Partito che si farà dovranno pungolare e stimolare un'amministrazione comunale per me in questo momento disattenta su molti temi della città, lo farà in maniera costruttiva ovviamente perché il sindaco e l'amministrazione comunale vanno aiutati in un percorso nell'interesse della città e lo spirito del Partito Democratico è quello di aiutare con le proposte, con le idee, ma rimanendo nel ruolo che oggi la città ci ha dato come dimensione, che è quello che alle ultime elezioni ci ha detto il Movimento 5 Stelle andrà a governare, il Partito Democratico andrà all'opposizione. Un partito è fatto di regole, la nuova guida politica del PD servirà a far rappresentare nella città una proposta, un'idea di un governo alternativo al Movimento 5 Stelle. C'è anche un chiaro riferimento alla recente richiesta dei consiglieri Malluzza e Panebianco di entrare a far parte del PD che non ha ricevuto riscontri positivi. Io, due consiglieri comunali giovani che hanno messo la faccia sul segno del sindaco Fasuro nell'area del centro-sinistra, quindi alleati col Partito Democratico, l'avrei fatta entrare anche perché noi abbiamo accolto nelle nostre liste del Partito Democratico gente che veniva da esperienze di altri partiti, di altre aree addirittura di centro-destra, che oggi rappresentano il Partito Democratico, non soltanto a Gela ma un po' in tutto il Paese. Quindi a maggior ragione due giovani io li avrei fatti entrare subito perché noi siamo un partito aperto non chiuso. La fase congressuale servirà anche a questo, a far capire che oggi non possono essere prese delle scelte personali, ma c'è un partito che discute democraticamente e affronta i temi, così come la città oggi ha bisogno sui temi sociali, anche sui temi interni della vita democratica di un partito. Cerca dunque la condivisione il primo circolo del Partito Democratico di Gela per convergere sulla scelta di un segretario cittadino che guidi il partito politico. È proprio la mancanza di questa figura che ha determinato, secondo la dirigenza del primo circolo, anche la sconfitta alle ultime elezioni amministrative. In 21 anni di amministrazione della città di Gela da parte del Partito Democratico, prima ancora i democratici di sinistra, il PDS, tutte le fasi congressuali che sono state fatte e noi abbiamo cambiato il volto della città perché prima molte di quelle che sono le opere pubbliche che oggi sono in città non c'erano, così come non c'era anche il modo operandi all'interno del palazzo di città. Forse se non sono stati fatti, la città ne ha tratto benefici. Perdere questo tipo di rapporto con la città per colpa di alcuni consiglieri o per colpa di una guida politica che non c'è stata negli ultimi anni, credo che è stata veramente demenziale da parte di tutti noi e mi ci metto pure io come responsabile di questa situazione, ma c'è un punto dove bisogna dire basta a questo tipo di situazione. Avete aspermente contestato il contegno politico ovviamente all'interno dell'assise civica dei vostri rappresentanti del Partito Democratico e avete sostenuto, sostenete che questo comportamento, questa linea politica è assolutamente scollata dal Partito Democratico. Che cosa contestate nello specifico? Il modus operandi del Consiglio Comunale, nello specifico con riferimento al mancato ingresso dei due consiglieri comunali che volevano entrare nel gruppo consigliare del Partito Democratico, certamente non appartiene alla storia politica del Partito Democratico. Sono comportamenti inimmaginabili che evidentemente, voglio pensare, sono frutto di una mancanza di esperienza probabilmente da parte del capogruppo o di altri consiglieri comunali che in quell'occasione si sono opposti. E comunque anche queste problematiche sono sempre legate alla mancanza di una guida politica e di un segretario cittadino e di una segreteria. Sit-in dinanzi alla Clinica Santa Barbara di Machitella Gela da parte di 9 operatori ausiliari destinatari di lettere di licenziamento nonostante un accordo sindacale risolente ad un anno addietro. Tre di loro hanno già ricevuto un provvedimento di mobilità che significa anticamera del licenziamento. Il sit-in è appoggiato da CGL e CISL. L'azienda ci dice che è stato decortato delle somme per quanto riguarda l'assessorato regionale sanità e quindi da questo è scaturito tutta una serie di provvedimenti e tentative che potrebbero arrivare al licenziamento di 9 ausiliari. Noi stiamo tentando fino all'ultimo di arrivare a degli accordi bonari, tra l'altro però veniamo da due incontri all'ufficio del lavoro che sono andati negativi e quindi oggi siamo ritornati qui per ulteriori tentativi e ora ci siamo presi due giorni di riflessione perché tra l'altro ogni singolo lavoratore deve rivedere la propria posizione, gli anni di servizio e quindi come la posizione personale. Con questi due giorni di riflessione poi dobbiamo decidere o andare a causa a tutela dei lavoratori quindi a defesa dei lavoratori oppure si possa raggiungere un accordo all'ultimo momento. I licenziamenti sono stati adottati a causa dei tagli che hanno colpito il settore sanità. I lavoratori ritengono di subire una ingiustizia. Anni addietro erano stati assunti a tempo indeterminato. Il verbale diceva che l'azienda si impegnava a non fare nessuna assunzione nell'arco dei due anni. La riqualifica che chiedeva l'azienda era quella in os. Noi abbiamo provveduto all'iscrizione di questo corso e da lì, da maggio 2015, al momento in cui noi abbiamo portato l'iscrizione all'azienda, l'azienda ha provveduto a mandare le lettere di mobilità. Dopo novembre di un anno fa avevamo accettato un demanzionamento pur mantenendo i livelli con la stessa categoria. Loro adducono un soprannumero, cosa che sulla pianta organica non esiste perché la nostra categoria non è stata ancora soppressa. E loro fanno di tutto per eliminare la nostra categoria, cosa che secondo noi non può esistere perché secondo la convenzione noi siamo iscritti sulla pianta organica. Grazie a tutti.